Amici di Shellware Magazine ben ritrovati sul nostro canale YouTube Siamo di nuovo allo stand di HTC, ancora Ivan Paparella con Lucio Prosperi E oggi stiamo conoscendo il nuovo entry level di casa HTC Desire 530 Un dispositivo con un display da 5 pollici e risoluzione HD mosso dallo Snapdragon 210 1,5 Gb di RAM Abbiamo una fotocamera frontale da 5 megapixel, quella posteriore invece è da 8 Un prodotto che come dicevamo è stato presentato insieme al Desire 820 Che però in questo momento non ci è possibile provare perché è chiuso in una teca Sì l'hanno chiuso, è inaccessibile, è più facile entrare a Fort Knox che farsi dare l'820 Non ne vogliono proprio sapere di farcelo provare Questo è un prodotto sicuramente interessante che avrà un rapporto qualità prezzo favorevole Costruito completamente in plastica quindi rispetto ad altri prodotti appare un filo meno raffinato Però certamente molto piacevole nel design molto giovanile Anche questa cover con questa finitura bianca e colorata sembra Sì infatti anche i tasti con i colori differenti Dà l'impressione di essere pensato proprio per i più giovani Per un pubblico giovanile Ecco scusami Ivan, sistema operativo Android 6.0 Esatto Importante dirlo Che altro? NFC, Bluetooth 4.1 Wi-Fi, GPS Tutte comunque le caratteristiche che siamo abituati a vedere su qualsiasi dispositivo C'è chiaramente anche l'intervento di HTC per personalizzare l'interfaccia Vedremo di provarlo il più presto possibile E per adesso mi fermerei qui per questo video Va bene, saluti, ciao ciao